Ciao a tutti, in questo video ci saranno due notizie principalmente, una è negativa e l'altra è positiva e sono veramente delle notizie molto importanti per capire un po' delle dinamiche che ci sono nella blockchain che non sono così tanto comuni. Allora, la prima notizia riguarda appunto la blockchain Steam. Questa blockchain è di tipo di POS e la notizia abbastanza importante è quella che, diciamo, i legittimi custodi di questa blockchain sono stati espropriati e adesso ce ne sono degli altri che controllano questa blockchain e quindi la validazione e la produzione di nuovi Steam. Questo tipo di comportamento può sembrare un qualcosa simile a un colpo di stato di fatto e la cosa curiosa è che questo tipo di comportamento è stato possibile perché tre exchange hanno colluso e hanno votato per delle altre entità utilizzando i token che le persone tenevano appunto su questi exchange. Quindi nel caso delle blockchain di POS è molto importante che l'utente sia effettivamente in controllo di queste criptovalute perché queste criptovalute non sono solo qualcosa che può avere un valore ma ti danno anche diritto di voto e se delle entità esterne che controllano le tue criptovalute decidono al posto tuo possono succedere appunto anche questi spiacevoli inconvenienti. Vi consiglio questo thread che è uscito su Twitter dove appunto c'è Vitalik che appunto parla di questa problematica della blockchain Steam e questa cosa in qualche modo potrebbe anche succedere in Ethereum 2 anche se in Ethereum 2 ci sarebbero anche diciamo delle contromisure o perlomeno si considereranno anche delle contromisure ovvero che se questo tipo di attacco non va a buon fine questi attori esterni dovrebbero avere una forte penalizzazione per un attacco di questo tipo perché appunto di fatto un'altra entità prende il controllo della rete utilizzando appunto il potere che questi token, queste criptovalute darebbero ai singoli utenti. Però appunto come dice Vitalik questo tipo di attacco su Ethereum 2 sarebbe molto più costoso quindi vedremo comunque il fatto che questi problemi vengano al pettine adesso è una cosa positiva perché le criptovalute più che scambio di valore sono dei software e i software possono avere bug ed è meglio che questi bug vengano fuori il prima possibile. Qui appunto vi consiglio appunto di leggere questo thread in particolare ci sono appunto anche alcuni dei vecchi block producer di Steam che appunto danno la loro versione e questo tipo di attacco è stato possibile perché Binance, Wobi e Poloniex hanno utilizzato appunto il loro potere per eleggere degli altri block producer e quindi far sì che la rete fosse controllata da nuove entità che non rispettavano più i token holders di queste criptovalute ma il volere degli exchange visto che comunque molti di questi token sono anche in custodia presso queste entità. E che dire, non è una cosa particolarmente piacevole questa cosa in EOS è un pochino più mitigata perché gli utenti sono incentivati a bloccare le proprie criptovalute di tipo di POS per avere degli interessi in cambio tuttavia nelle blockchain che non sono di tipo proof of work questo tipo di problematiche esiste ovvero dove un'entità con molti soldi può comprarsi le parti più influenti di questa rete e quindi cambiare la direzione di questa blockchain. L'altra notizia che è un po' più riguardante l'Europa la Germania finalmente si è decisa di chiarire appunto che cosa vuole fare con le criptovalute e la cosa molto interessante è che non verranno solo considerate le criptovalute e i token che rappresentano delle securities quindi rappresentano diciamo delle azioni per un'azienda oppure rappresentano dei beni virtuali per esempio i famosissimi polli su blockchain andrà a legalizzare anche le criptovalute vere e proprie come strumenti finanziari quindi le banche operanti per il mercato tedesco potranno appunto vendere e custodire criptovalute per conto dei clienti e questo tipo di attività è interessante proprio perché non riguarda solo i security token ed è interessante vedere qual è la definizione che danno appunto di token e criptovalute per quel mercato e quindi dicono che si tratta di rappresentazioni digitali di valore che non sono state create o garantite da una banca centrale da un ente pubblico e non sono necessariamente collegate a una criptovaluta specifica per la legge e non hanno lo stato di valuta o denaro ma sono accettate come mezzo di scambio per natura scusate questa traduzione un po' così al volo e quindi possono essere trasmesse, immagazzinate e scambiate elettronicamente quindi diciamo questi token, queste criptovalute per il mercato tedesco sostanzialmente sono dei beni digitali che possono essere scambiati che non necessariamente hanno un controvalore di qualcosa dietro per esempio dietro a un pollo su blockchain magari c'è qualche azienda che ti garantisce un pollo nel caso di un bitcoin, un bitcoin dietro a un bitcoin c'è solo un bitcoin non c'è un altro bene che viene rappresentato da questo token digitale ovviamente è una descrizione molto ampia quindi tecnicamente sulle banche tedesche ci potrebbero essere token che rappresentano non so, dei biglietti digitali per i concerti qualsiasi tipo di, non so, assicurazione quindi anche cose non tangibili quello che appunto è l'unico delimitatore è appunto il fatto che siano scambiate quindi se le persone si scambiano delle cose digitali queste cose appunto possono rientrare in questa definizione molto ampia anche se non sono garantite da uno stato o da un ente di qualche tipo quindi questa cosa è molto interessante perché effettivamente la criptovaluta usata come moneta non ha dietro alcunché ha solo la comunità di persone che effettivamente si fida che quel tipo di criptovaluta o token abbia in qualche modo un valore e che dire l'altra cosa interessante è che nonostante l'Unione Europea comunque questo tipo di decisioni sono solo state prese per il mercato tedesco e quindi tutti gli exchange che vogliono operare per il mercato tedesco in Germania devono comunque acquistare una licenza che vale appunto per il mercato tedesco e se questi exchange hanno una sede in un altro mercato dell'Unione Europea comunque questa cosa non è valida perché devono comunque avere una licenza tedesca per operare sul mercato tedesco e quindi avere anche l'approvazione per quel mercato viene specificato che per adesso ci sono 40 banche interessate a fare appunto questo tipo di custodia e viene anche specificato che è presente adesso uno strumento finanziario che replica il prezzo di bitcoin inverso quindi immagino venga utilizzato per chi è che vuole shortare il prezzo di bitcoin che dire sicuramente è positiva come cosa dall'altra parte se le persone non hanno il vero possesso delle criptovalute ma le tengono in banca in qualche modo viene snaturata l'idea di criptovaluta quindi dove le persone sono veramente sovrane delle criptovalute che hanno tuttavia per chi vuole speculare o per altri tipi di utilizzo che appunto non sono in prima persona ben venga anche l'utilizzo di questi tipi di strumenti da parte delle banche se non altro faranno aumentare la liquidità degli scambi per quanto riguarda appunto questi tipi di strumenti e per concludere torniamo di nuovo all'argomento di google che censura cose che hanno a che fare con criptovalute cointelegraph ha scritto questo articolo dove appunto dice che la sua app di notizie sul google play store è stata cancellata inspiegabilmente senza motivazione e così come anche l'app di coindesk quindi un'altra testata giornalistica sulle criptovalute e sparita dal play store senza alcuna motivazione da parte di google questa cosa l'ho controllata anche per il play store italiano in effetti è così quindi non è un qualcosa che ha a che fare una locazione geografica precisa però appunto queste cose accadono quindi sarebbe anche interessante capire come mai avvengono queste cose visto che da una parte ci sono degli stati che vogliono legalizzare gli scambi delle criptovalute e dall'altra invece non si capisce bene perché questo tipo di applicazioni dovrebbero essere tolte dagli store che dire questo è tutto come sempre lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se non siete iscritti vi saluto e ci vediamo in un altro video ciao a tutti ciao a tutti